Il campionato di Serie B è bellissimo e imprevedibile, fortunatamente che io oggi poi all'ultimo non ho giocato nella bolletta il Palermo perché me lo sentivo, come se andasse a finire così già lo sapevo, il Palermo perde in casa contro la Salernitana che si rilancia in zona playoff, un primo tempo che sembrava mettersi bene per i padroni di casa in vantaggio con un bellissimo gol di Iaialo, poi non sono riusciti a dar seguito come intensità agli attacchi e nel finale di primo tempo è arrivato il pareggio di Anderson, nel secondo tempo la Salernitana ha avuto la meglio, ha creato molte più palle gol, c'è stata questa occasione, questo contropiede di Puskas che poi da palla a Rispoli che non vede la corrente sulla destra Falletti che si incazza giustamente come una belva, mi sarei incazzato anch'io, ma tira uno straccio zuppo sul portiere e a quel punto poi Traikovsky, che a me piace molto però pecca di presunzione, perde una palla, fa ripartire il contropiede, la palla finisce sulla destra proprio al novantatresimo a Tiago Casasola, o Casasola, non so adesso l'accento dove casca di preciso e fa il colpo gobbo a Paderno. Che dire, questa è la Serie B, è un campionato strano, bello, avvincente anche per questo motivo e fortunatamente non me la so giocata.